Gli amministratori di condominio intervengono in merito alla questione delle assemblee, c'è un problema di sicurezza per quello che riguarda la prevenzione Covid. Che cosa è la vostra proposta, che cosa dite soprattutto ai condomini? Allora, il messaggio che vogliamo far uscire è un messaggio innanzitutto di solidarietà per il momento tragico della pandemia, che in qualche modo sta limitando tutte le attività, compresa la nostra. La nostra forza è stata solo marginalmente toccata, abbiamo sentito il bisogno come amministratori di riunirci e di calibrare una linea comune che potesse tutelare tutti i nostri clienti, tutelare i nostri studi e le nostre persone. Decidendo cosa? Decidendo un qualcosa che era inevitabile, ovvero una sospensione fino al 24 di novembre, data dell'ultima scadenza del DPCM, dove sospenderemo le attività di assemblee condominali in presenza. Ciò vuol dire che continueremo a lavorare, continueremo a essere presenti nei nostri stabili, ma non lo faremo attraverso assembramenti di persone all'interno di qualsiasi sede sia, per non correre rischi, per non avere responsabilità, ma soprattutto per tutelare la salute dei nostri clienti. Ci adopereremo per avere tutti gli strumenti necessari al fine di riuscire a trovare la giusta collocazione anche per lo svolgimento delle attività e perché le gestioni amministrative non vengono in qualche modo a essere interrotte, ma vogliamo salvaguardare e dare il nostro contributo affinché tutta questa operazione precauzionale di isolamento possa arrivare a un termine e concludersi positivamente. Le assemblee condominali, secondo il nostro giudizio, potrebbero essere uno degli elementi a rischio nel quale propagare il contagio.